Ciao, oggi vi parlo di questo mascara della Rimmel, si chiama Extra Super Lush ed è un mascara waterproof, sapete che io adoro il mascara waterproof, questo è un 8ml guardavo se c'era qualche indicazione in più, no, comunque sia questo, è un mascara ed è più che altro allungante lo scovolino, ve lo faccio vedere, che è questo, ha fatto a piramide, eccolo qua, a triangolo come volete e vi ho fatto vedere il video di dove è all'opera, che lo faccio vedere adesso iscriviti al canale allora, cosa dire di questo mascara, intanto che è davvero waterproof, quindi è perfetto per l'estate o per chi come me adora, piangono spesso gli occhi, quindi mi piace un mascara che non coli, questo è fantastico ha un colore nero, molto nero, bastano poche passate come avete visto anche comunque nel video ed è subito uno sguardo più aperto, è perfetto, perfetto per il giorno, con più passate anche per la sera dura tantissimo, cosa importante, non fa grumi, oppure non va a sbriciolarsi durante il giorno non macchia e cosa dire, è fantastico, resta bello bello fisso lì sulle ciglia mamma mia come parlo, e si strucca tranquillamente con un qualunque struccante specifico per occhi quindi delicato, non strappa le ciglia e l'applicatore, che è questo, permette di andare a prendere tutte le ciglia, anche quelle più agli angoli e di non macchiare, che io è una cosa che odio quando la mascara macchia e l'ho usato credo più fino fino alla fine, senza che si seccasse quindi altra cosa molto importante, perché non mi piace buttare via il prodotto e cosa dire, io ve lo consiglio assolutamente se siete un amante di mascara come me, e in più questo è waterproof, davvero ve lo straconsiglio e se l'avete provato, fatemi sapere sia come si trovate io spero sia stata utile, ed se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale, così non perderete le prossime accensioni alla prossima, ciao!